Buonasera a tutti i telespettatori di Lente di Ingrandimento, buonasera al sindaco di Napoli Luigi De Maggis, buonasera sindaco, tanti gli argomenti che tratteremo anche in questa puntata, ma io aprirei con un argomento importante perché riguarda il bilancio del Comune di Napoli, approvato in giunta, dovrà poi passare al baglio del Consiglio, un bilancio che comunque dà risorse a tutte le criticità che ci sono al momento. Siamo molto contenti dell'approvazione del bilancio fatto domenica scorsa in giunta e che andrà in Consiglio Comunale nei prossimi giorni, contenti perché con i tagli che il governo ci sta facendo, da ultimo nella manovra finanziaria di Natale, è già una notizia fare il bilancio, anche perché molti telespettatori ricorderanno che alcuni titoli di giornale davano per certo, come sempre, crack del Comune, fallimento Comune, invece abbiamo approvato un bilancio importante. In estrema sintesi, vengono confermate tutte le risorse per i settori strategici, mettiamo in sicurezza tutte le società partecipate, Napoli Servizi con un contratto triennale, ANM che confermiamo le risorse fino al 2021, quindi anche oltre il termine ultimo di scadenza della concessione che la Regione Campania ha dato al Comune, dicembre 19, quindi noi avremmo potuto mettere le risorse fino a dicembre 19, perché poi la Regione deve fare la gara, ha fatto la legge, vuole esternalizzare, noi invece a dimostrazione di quanto puntiamo sul trasporto pubblico in bilancio abbiamo messo 54 milioni fino al 2021. La notizia importante è che abbiamo registrato dei numeri significativi di incremento del denaro con la lotta all'evasione e con la capacità di riscossione e soprattutto abbiamo quindi recuperato risorse per fare un piano assunzionale importante. Circa 1500 persone? Per dare un dato, negli ultimi 8 anni da quando faccio il Sindaco il personale si è ridotto del 50%, l'età media intorno ai 60 anni, Quota 100 rischiava per colpa di questa norma di farci andare sostanzialmente in chiusura degli uffici, di questo stiamo parlando. Quindi noi abbiamo messo a terra un piano di assunzioni e quando dico assunzioni mi rivisco contratti a tempo indeterminato di circa 1500 lavoratori e lavoratrici tra comune e società partecipate negli anni 19, 20 e 21. La maggior parte delle assunzioni saranno il 19 ed in particolare, così diamo notizie a chi attende da casa, tutta la graduatoria Formez verranno tutti quanti assunti entro quest'estate e ci sono varie qualifiche dagli architetti agli ingegneri, ragionieri, insomma un po' tutte le qualifiche interessate. Quello a cui tengo moltissimo perché è un impegno preso che sembrava quasi impossibile, la stabilizzazione di tutti i lavoratori socialmente utili che da 20 anni lavorano per il comune, è un'altra platea di circa 400-500 persone e poi le società partecipate, quindi noi andremo già entro l'anno finalmente a fare assunzioni in Asia, quindi si vive a più spazzamento, più servizi polizia della città. Quindi questo grande piano per le assunzioni vere, non i corsi di formazione che lo vende per posti di lavoro la regione, quella è un'altra cosa, posti di lavoro veri che servono per migliorare sempre di più i servizi della città. Se posso aggiungere a questo, si aggiungono due misure importantissime, che in queste ore, nei prossimi giorni, arriveranno 200 milioni che abbiamo chiesto a Cassa Depositi e Prestiti per pagare i creditori del comune di Napoli, quindi tutti i creditori saranno pagati ed è una notizia buona per chi aspetta i soldi dal comune e a fine maggio avremo i circa 100 milioni del piano strategico della città metropolitana che andranno tutti in scuole, strade, ambiente, parchi, verde, dissesti e altre misure importanti. Quindi complessivamente ci sono tutte le condizioni per andare verso un concreto, efficace e immediatamente percepibile miglioramento della qualità dei servizi della città. Abbiamo detto che va in Consiglio Comunale e lei pensa che non ci siano problemi? Ci sarà una tenuta della maggioranza? Una manovra di questa dovrebbe essere votata anche dall'opposizione, perché credo che non è mai capitato in questi anni ai consiglieri comunali di poter avere una notizia così lieta. Cioè pensate un po' un comune come Napoli, in predissesto, in piano di riequilibrio, che mette in bilancio l'assunzione di centinaia di lavoratori, che garantisce le risorse alle società partecipate, che migliora i servizi, che stiamo avendo 100 milioni per opera e l'unica interesse dell'opposizione, quella non costruttiva, è quella di mettere in difficoltà chi vuole lavorare per la città. Invece magari da quella parte dell'opposizione più costruttiva mi potrei aspettare dei suggerimenti, dei consigli per magari appostare qualche risorsa da una parte invece che dall'altra. È una notizia molto importante, la maggioranza è molto carica, siamo molto motivati perché andiamo verso la fine della sindacatura, quindi nei prossimi due anni bisogna mettere in campo tutte azioni che si vedono, non progetti per il futuro. Sindaco, in vista della primavera la città chiede la riapertura di molti parchi che dopo il maltempo del 29 ottobre sono rimasti ancora chiusi. Vediamo un attimo la scheda. c'è stata una manifestazione domenica al Parco del Poggio, fuori al Parco del Poggio perché anche il Parco del Poggio dove normalmente ci vanno tanti bambini ma non solo, ecco gli amminei, è ancora chiuso. Allora Sindaco, restituire un polmone verde ai bambini, alle persone anziane, a quanti vogliono passeggiare tranquillamente? Questo è anche il segno, innanzitutto grazie a questi concittadini perché condivido molto lo spirito con cui si fanno queste iniziative, però questa è anche l'occasione per riflettere tutti che il cambiamento climatico lo cominciamo a vedere purtroppo, perché i due eventi atmosferici non solo il 29 ottobre ma anche il 23 febbraio di quest'anno hanno messo a dura prova. Tenete presente che prima non ho detto che faremo anche un concorso perché tra le varie qualifiche che non ci sono più nel Comune ormai tranne tre unità, sono gli agronomi, quindi noi tra le varie categorie di persone che dovremmo assumere nei prossimi tempi sono gli agronomi. Noi stiamo facendo un lavoro enorme per i parchi, a parte i circa 10 milioni di euro che arriveranno a fine maggio come città metropolitana per i parchi, le nuove alberature, noi prevediamo 10 mila alberi entro il 2020, noi stiamo lavorando con le risorse che abbiamo moltissimo sui parchi, Villa Comunale riaperta, Parco Caetano Enrico riaperto, adesso il prossimo obiettivo è il Parco del Poggio che dobbiamo necessariamente aprire subito, questa è l'indicazione forte che ho data agli uffici e anche all'assessore che stanno facendo già un bel lavoro, poi c'è il Parco Viviani a Via Girolamo Santa Croce e quindi stiamo facendo gli sforzi tenendo presente che il personale quello è, addirittura stiamo facendo anche delle somme urgenze in alcuni casi, quindi stiamo mettendo risorse aggiuntive, stiamo facendo il possibile ma la situazione comunque è complicata perché anche le alberature molte sono antiche, poi bisogna sempre garantire la sicurezza delle persone, non è che si può aprire un parco con superficialità senza fare i dovuti controlli perché i tecnici non si assumono giustamente le responsabilità, quindi un po' di pazienza, però posso dire a tutti che non c'è né dimenticanza, né superficialità, né pigrizia, ma l'obiettivo dei parchi è un obiettivo assolutamente prioritario e ve ne accorgerete da qui a qualche giorno quando indicheremo con precisione tutti i parchi che saranno finanziati con il piano strategico della città metropolitana. E questa è una buona notizia perché c'è bisogno di spazi verdi e perché c'è bisogno anche di aggregazione che è fondamentale per una città che si dice vivibile. Sindaco, per quanto riguarda Via Marina stiamo facendo un po' un resoconto di tutte le criticità che ci sono a Napoli perché il traffico è ancora molto congestionato chiaramente nella zona, servirebbe che questi lavori terminassero? Allora innanzitutto un po' di pazienza per un mesetto perché ci sono i lavori a Marchese Campodisola, Vieti Predis, Vieti Gasperi, però i lavori non li vuoi fare, si devono fare, anzi è una buona notizia che si fa. Via Marina stiamo andando bene, io le notizie che ho è che noi per le università di Via Marina sarà completamente finita, l'università inizia nel 3 luglio, quindi noi confidiamo per giugno per la fine di tutti i lavori di Via Marina, quindi anche prima ci auguriamo di poter vedere i tram che iniziano a circolare, quindi le notizie che ho sono assolutamente confortanti e stiamo premendo per chi nei prossimi giorni possa iniziare anche la canterizzazione di Parco della Marinella, almeno per cominciare subito i lavori di bonifica. Sindaco, lei ha anticipato un argomento che tratteremo, le università, ieri c'è stata il primo importante incontro anche con le delegazioni, vediamo la scheda, poi ne parliamo insieme, ci dice cosa è emerso, mi pare che il Presidente della FISU sia abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose. Sindaco, siamo ritornati in studio, abbiamo visto le schede. Inutile sottolineare che anche qui non c'è stato il tanto auspicato disgello tra le due istituzioni comuni e regioni, il Sindaco era già arrivato alla manifestazione, è arrivato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, però non c'è stata la tanto attesa stretta di mano, Sindaco. Che devo fare? Non dipende da me, io sono un uomo di pace, ma devo dire che l'atmosfera era talmente bella, calda, è stata un'iniziativa bellissima, che non la farei inquinare poi da chi non ha il garbo istituzionale, che certo non sono io, lo sapete, ormai posso avere tanti difetti, ma sono un uomo delle istituzioni. Insomma, cominciano a arrivare le delegazioni. Andavano molto bene, io devo dire la verità c'era una bellissima atmosfera, diamo qualche notizia. Esattamente. Le universiadi iniziano il 3 luglio e finiscono il 14 luglio. 124 nazioni, circa 10.000 atleti, più tutte le delegazioni, le famiglie, i turisti, insomma per Napoli è un evento importantissimo. Napoli si proporrà a quel punto anche come città del dialogo, della pace, dell'incontro tra gli sportivi, quindi delle culture, gli impianti sportivi e i lavori stanno andando bene, chiaro ci saranno nei prossimi giorni sacrifici in città di cantieri di vario tipo, però noi ci faremo trovare il 3 luglio per l'inaugurazione allo Stato San Paolo in grande spolvero, la chiusura si farà a Napoli in piazza del plebiscito, insomma c'è grande entusiasmo e devo dire anche grande apprezzamento da tutti i delegati, ma anche dal Presidente della FISU, dalla Federazione Italiana, appunto, alla Federazione Internazionale delle Universiadi, che ha apprezzato il lavoro sinora fatto e quindi credo che, insomma, chiaro, i bilanci si fanno sempre alla fine, ma è prima, aspetteremo alla fine. Cioè, qualcosa si sta muovendo, molto c'è da fare chiaramente, insomma. No, anche 90 giorni davanti, sappiamo che siamo partiti tardi, non per colpa nostra, perché fino all'ultimo Regione e Governo non volevano più fare università, vi ricorderete la cabina di regia di luglio del 2019, poi chi è stato di luglio 2018, chi è stato particolarmente fermo, è stata la città di Napoli e la FISU, ora adesso devo dire per correttezza che si sta collaborando bene davvero tutti quanti, il Governo nazionale si è un po' defilato, ma poi vedrete che all'inaugurazione si faranno vedere, perché capiranno che questo è un evento che dà forza a tutto il Paese, le immagini di Napoli faranno il giro del mondo, c'è tra l'altro un video di presentazione di Universiadi, vi consiglio di vederlo, perché è davvero straordinario e bellissimo, quindi ormai non ci resta che lavorare per poi ancora una volta mostrare la potenza di Napoli nel mondo. Infatti sono anche tanti campioni dello sport che sono scesi in campo a sostegno delle università, degli ispettori sono anche venuti a controllare un po' l'andamento dei lavori, per quanto riguarda la Scandone mi pare che si procede abbastanza bene, quindi poi alla fine si avranno due piscine riqualificate per la città? Stiamo andando bene ovunque, devo dire tra i lavori che più impressionano positivamente sono quelli della Scandone e del San Paolo Arco, perché la creazione anche di una nuova vasca. La Scandone sta venendo un gioiello, a parte come ricordava lei avremo una seconda piscina all'esterno, quindi pensate un po' alla ricaduta positiva di impianti sportivi che rimarranno in città, poi tutti i riscaldamenti, wifi, filtri, aria condizionata, spogliatoi, insomma se pensiamo che la nostra è una città piena di atleti e di talenti bravi che spesso si sono dovuti allenare in impianti francamente fatiscenti o comunque in difficoltà, adesso io penso che ci sarà veramente una svolta. Sindaco, mi dispiace toccare questo argomento perché se ne è parlato tanto in settimana, però secondo me è giusto comunque anche ai telespettatori di Rente di Ingrandimento far sentire quello che lei pensa di quanto è accaduto in città, questo matrimonio celebrato del neomerodico Toni Colombo con la sua sposa che ha fatto il giro del mondo, ha bloccato parte di Secondigliano con il suo corteo e chiaramente noi siamo solo alla prima fase di un matrimonio, ma insomma quando si metterà la parola fine, insomma lei è stato chiamato in causa, la città è stata proprio tirata in un vortice incredibile, se ne parla su tutti i giornali, su tutte le prime pagine dei giornali e su tutte le trasmissioni di Rente. Io non ne vorrei parlare più, infatti ho deciso di mettere la parola fine, perché è una storia che non esiste, è il nulla, schizzi di fango, però oggi mi fa piacere che lei mi fa la domanda, perché questa è una trasmissione con tante telespettatrici e telespettatori che mi seguono da anni, quindi siccome hanno provato come sempre a buttare fango poi alla fine sulla città, sui napoletani, io rappresentando la città hanno provato e cercano come sempre, non trovando nulla, a buttare fango anche sulla mia persona, sui miei collaboratori, sul comune di Napoli, quindi è giusto che qualche secondo per quello che può valere… Far capire cosa è accaduto, insomma. Non ne parlo con piacere perché è una vicenda secondo me amara, ma si deve parlare anche delle vicende amare. Toni Colombo, cominciamo da quando ho conosciuto Toni Colombo, io l'ho incontrato, mi sarà capitato due o tre volte, lui ha insistito spesso perché io andasse ai suoi concerti, io non sono mai andato, una volta è stato molto cortese, gentile e premuroso da portarmi l'invito al Palazzo San Giacomo, io chiaramente l'ho ricevuto, andai una volta dietro alle quinte al Palaparteno, poi c'erano tanti artisti, non solo, Toni Colombo, ne salutai parecchi, ricordo c'era anche Belen, etc. Tenete presente, ma lo dico giusto come parentesi, io essendo molto sindaco di popolo e di strada, io solo a Palazzo San Giacomo credo di aver ricevuto decine e decine di migliaia di persone, avrò fatto centinaia di migliaia di foto, giro per strada e non è che faccio discriminazioni nei confronti delle persone, per me le persone sono persone, io sono il sindaco di tutte e di tutti e quindi se qualche persona vuole stringere la mano, incontrare per strada, salire nel mio ufficio, facciamo le visite pubbliche a decine di migliaia di persone, da questo punto di vista continuerei, se tornassi indietro con Colombo farei esattamente la stessa cosa. Poi è accaduto, non vedendo più Colombo, credo da 4 anni, due volte l'avevo incontrato, a gennaio è venuta una richiesta, anche questa fanno in tantissimi, tra cui Colombo, di sposarlo. Devo dire la verità, siccome poi si tratta di un personaggio che ha una sua notorietà, anche di un certo tipo, ho fatto delle valutazioni e delle verifiche, ho scelto per ragione di opportunità di non dare il mio consenso per sposare Tony Colombo. Devo dire uscì anche una notizia a gennaio, che noi dovemmo smentire perché lui diede per certo, fece circolare la notizia, perché lui aveva richiesto, effettivamente aveva fatto una richiesta ufficiale, come fanno in tanti, ma non è che tutti quelli che richiedono di farsi sposare da me o che scrivono mi sposerà, ma gli stessi sarà così. Per me era finita lì. Il pomeriggio prima del matrimonio di Tony Colombo, casualmente incrocio l'assessore Clemente che mi dice, guarda, tra altre cose ti voglio parlare di una vicenda che mi sta un po' preoccupando, perché mi hanno segnalato che domani, cioè il giorno del matrimonio, c'è più o meno la contestualità, non proprio nello stesso luogo, ma nello stesso castello, del matrimonio di Tony Colombo, dove potrebbe venire diversa gente, un matrimonio che, come dire, a quanto mi diceva Alessandra Clemente, ci poteva essere un certo seguito, e l'iniziativa a cui noi chiaramente abbiamo contribuito, abbiamo organizzato, perché il matrimonio di Colombo, lo dico, apro e chiudo una parente, non è che l'abbiamo organizzata noi, cioè non siamo gli organizzatori del matrimonio, fino a prova contraria si può sposare tutti, quindi c'è le persone che chiedono di sposarsi, al maschio angelo si sposa il principe, l'aristocratico, il neomelodico, l'impiegato, il disoccupato, l'operai, il magistrato, l'avvocato, chiunque fa richiesta, paga, va nella sala e fa il matrimonio. Mentre invece l'iniziativa Cento Passi, con i familiari delle vittime innocenti di mafia, tra cui Alessandra Clemente, che è la figlia di Silvia Rotolo, tenevamo questa iniziativa importante, il questore, i carabinieri. Come Alessandra me l'ha detto, chiedendomi un po' un consiglio, perché lei ha detto Alessandra, secondo me bisogna spostarlo, perché come immagine la confluenza tra un matrimonio, ma già di per sé partecipato, poi magari piuttosto sfarzoso, comunque come si poteva intuire in quel momento che me l'ha detto Alessandra, non può combaciare con un'immagine di Cento Passi, i familiari delle vittime, la mafia. Sono due atmosfere completamente di me. E quindi non è come ha detto qualcuno, è stato sfrattato, noi che abbiamo una grande sensibilità, abbiamo detto mica lo spostiamo in piazza o in un vicolo o in mezzo a uno scantinato, lo portiamo nel luogo più importante della città, che la sala giunta, tra l'altro anche con la mia presenza, perché io non sarei andato al Maschiangeno perché non potevo andare per altri impegni, perché stavo al comune, quindi ho anche fatto un saluto che non aveva previsto, c'era il questore, il comandante provinciale, è andato tutto molto bene. Nel frattempo, la mattina, proprio durante la mattina, si cominciavano a arrivare delle notizie, cioè la prima notizia era questa per esempio dell'intralcio al traffico al corso secondi ghiacchi, allora noi immediatamente abbiamo ovviamente consultato la... Con tanto di carrozza senza targa. Sì, abbiamo fatto chiamare la Polizia Municipale che stava già sul pezzo, poi per la vita il comandante della Polizia Municipale, ma anche riferito che loro avrebbero voluto intervenire subito sul corso, ma sembrerebbe che la questura per ragioni di ordine pubblico ha detto non li fermate subito, fatela arrivare a Piazza di Vittorio. Comunque insomma, io mi sono anche premurato dicendo al mio capo ufficio stampa che mi hanno annunciato, di chiamare il comandante della Polizia Municipale, tutte cose ovvie, pensate io tra il bilancio faccio il signo, no, ho detto oh, fai vigilare bene il castello, cioè non vorrei chi si vuole entrare, chi vogliono fare cose che non si possono fare, quindi tutti mi hanno assicurato che stavamo sul pezzo. Ed effettivamente poi ho appreso che il comune di Napoli tramite la Polizia Municipale ha sanzionato una serie di attività. Tra l'altro apprendiamo in quelle ore che la sera prima, apprendiamo in quella mattina, non mi ricordo a che momento, se la mattina è il primo pomeriggio, c'era stato praticamente una specie di concerto, di palco, che poi c'è stato anche un video diffuso da Tony Colum a Piazza Plebiscì. Loro avevano chiesto una autorizzazione per un flash mob. Io a quel punto là mi sono preoccupato, perché ho detto ma non è che il comune di Napoli ha autorizzato una cosa come questa, poi invece per fortuna ho preso informazioni e che non solo il comune di Napoli non aveva autorizzato ben nulla, assolutamente nulla, tanto è vero che è stato sanzionato pesantemente dalla Polizia Municipale, ma semplicemente il manager, la società, insomma Tony Columbo, per capirci, avevano chiesto di poter fare un flash mob, flash mob chiaramente è cosa ben diversa da tutto quello che è accaduto. Allora in questa vicenda che cos'è che stride davvero? Che immediatamente si è voluto puntare il dito sull'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale avrebbe pure potuto fare degli errori, ma guarda caso in questa vicenda gli unici che sono intervenuti con tempestività è proprio l'articolazione complessiva del comune. Se vogliamo, l'unica cosa che a me mi lascia un po' perplesso, l'ho detto anche pubblicamente, beh com'è possibile che nessuno si è reso conto perché i cavalli sono stati sanzionati, il corso secondigliano si è intervenuto, il matrimonio l'abbiamo visto tutti com'era, è comunque un matrimonio che in quanto tale ognuno si sposa come ritiene, io sono una persona che rispetta tutti, quindi non mi sento, non emetto giudizi, io mi sono sposato in un modo, lei probabilmente si è sposata diversa da me, Ciro che sta dietro alla telecamera si è sposato in un altro modo, Alberto che non si è ancora sposato probabilmente si sposerà in un altro modo e io sono un uomo di popolo, quindi non mi permetto di dire quello è brutto, quello è cafone, quello è così, ogni persona va rispettata. L'unica cosa sommessamente la vorrei dire, è un po' grave che nessuna autorità di controllo, nascuna esclusa, si sia accorto che a Piazza del Plebiscito si stava montando un palco di quelle vicine. E questo insomma, a me si spugge questa roba, come è possibile che si spoggia un concerto in Piazza del Plebiscito, qualcuno avrà chiesto a queste persone ma siete autorità, ma no, proprio per capire se è possibile che io domani mattina scendo e vado a fare un concerto in Piazza del Plebiscito. Io sono un po' sbottato, tutti mi conoscono da anni, io capisco che si vuole buttare fango sempre addosso alla città, a Luigi De Magistris, al sindaco e vada un giorno e va bene, il secondo giorno e va bene, il terzo giorno e va bene. Quando al quinto giorno ancora mi facevano domande su Toni Colombo, poi io che sono un appassionato del Tenente Colombo, quindi mi è venuto in mente il Tenente Colombo che che era altra cosa, su Toni Colombo, a certo punto ho detto scusate ma allora a questo punto noi vi stiamo spiegando quello che il Comune ha fatto ed è l'unico che è intervenuto con sanzioni, con rigore, con sensibilità spostando la manifestazione di Cento Passi, allora a questo punto visto che vogliamo andare a vedere se c'è qualcosa che non ha funzionato, io credo che ancora una volta non ha funzionato il controllo in una determinata parte della città, perché pochi giorni prima hanno sparato con una mitraglietta a Piazza Trieste e Trento, il prefetto giustamente mi ha detto certo è grave quello che è accaduto, ho predisposto un rafforzamento dei servizi di controllo su Piazza Trieste e Trento, Piazza del Prebricito e zone dintorni e beh allora io mi chiedo scusate ma se uno arriva, qua certe volte io vedo persone controllare gli ambulanti che vendono un babà, un po' di caffè o magari un pulcinella, va bene, la legge è legge, ma uno che è un montonupalco a me ne andrà a chiedere scusa ma lei ha autorizzato a fare quello? Ma poi dopo immagino che la musica sia arrivata nelle stanze della prefettura, qualcuno si è affacciato e ha detto, ho il dono dell'ubiquità ma non posso stare ovunque. Mi perdoni comunque sentendo questa musica e vedendo che c'è un concerto si poteva alzare un telefono e domandare al comune, agli uffici comunali se c'era un'autorizzazione? La sua domanda è la mia, la sua domanda è la mia, la sua domanda è la mia, cioè è impossibile perché è durato anche un bel po'. Questo è il vero tema, il vero tema proprio di questa vicenda, se vogliamo, al resto mi sembra veramente storie che non esistono come direbbe esistono storie che non esistono, dice Marcio Capatondo, di questo stiamo parlando e vogliono costruire una storia che non esiste gettando del fango e noi non ci stiamo a ricevere fango gratuito, se uno sbaglia paga. Io ho verificato e l'ho detto anche io con molta correttezza e mi ero allarmato a un certo punto, perché come ho visto il fatto, mi hanno detto che c'era stata una cosa di quel tipo a piazza, io sono il primo perché non sapendo, perché non sono io che autorizzo, quando hanno messo contato che il sindaco fa i controlli per strada e non li faccio io, il sindaco dà le autorizzazioni, io non sapevo manca del flash mob, io ho preso anche dopo del flash mob, quindi per dire è proprio grave questa storia, quindi ho deciso di mettere appunto, lei dice quando sarà messa una parola fine, io metterò la parola fine, se anche Toni Colombo, chi per lui, che continua ad andare in tutte le trasmissioni televisive per raccontare la sua verità, che non siano contenuti diffamatori, io non risponderò più, se ci sarà qualcuno che comincia ad alzare l'asticella e a diffamare il comune o chi la rappresenta, a quel punto non potremmo che agire nelle sedi opportune, ma noi non consentiremo più che la città di Napoli, l'amministrazione, la nostra correttezza e la nostra onestà venga quotidianamente infangata da ricostruzioni davvero inverosimili e sinceramente spiace anche un po' che chi ci ha dato tutta questa propagazione mediatica sta diventando quasi un manager occulto di Toni Colombo, perché stanno contribuendo a far fare il film. Ma io credo che Toni Colombo abbia fatto una operazione di marketing eccezionale, perché alle serate il suo caccia sarà quadruplicato. Siccome io non voglio contribuire al film su Toni Colombo, alla pubblicità di Toni Colombo, al successo di Toni Colombo, il quale tra l'altro si è più volte lamentato che noi non l'abbiamo mai chiamato a nessun concerto, a nessuna attività, questa dimostrazione del fatto che una cosa è conoscere una persona, ne conosciamo a decine, centinaia di migliaia, altra cosa noi non siamo l'amministrazione che fa a favore a Tizio Accaio o colpisce a Tizio Accaio perché è antipatico. Con Toni Colombo ci siamo comportati come ci saremmo comportati, con Fabiola Conson e con qualsiasi altro cittadino. Questo è il nostro modo di operare, che può piacere o non può piacere. Io mi auguro che a un certo punto su questa cosa si comincia a non fare più confusione inutile, a occuparci dei problemi della città. Assolutamente. Sindaco, ci avviciniamo a due punti importanti, quello di Pasqua e del 25 aprile. Parliamo di Napoli, sono tante le iniziative in cantiere, come il trend turistico, anche alla luce di tutte queste cose che accadono, le stese, qualche attentato in pizzeria nel centro storico. Quindi chiaramente qualcuno ha detto che evidentemente si perdono pezzi di turismo importanti. Forse sarebbe opportuno che si incontentrasse lo Stato soprattutto su questo. Magari sarebbe cosa buona e giusta. Invece magari andare dietro a cose inutili. Questo penso possa essere un fatto di cui tutti quanti apprezzeremmo. Io sono molto fiducioso. Il trend che c'è in città per turismo e cultura, economia, commercio non sarà scalfito da qualche stesa o da qualche avvoltoio di turno. Quindi le indicazioni che abbiamo sono eccellenti. Pensate un po' che ieri tra le varie persone che fanno visita nel comune, tra le tante migliaia di persone, sono venute due scuole di Chiusi e di Montepulciano che sono dovute andare a dormire a Calvizzano perché non hanno trovato un posto per dormire a Napoli. Quindi continua questo trend assolutamente positivo. Un enorme di viaggiatori della nostra città. Profitto per dire che tra le tante iniziative in questa settimana abbiamo domani l'inaugurazione della Fiera del Libro, il Festival del Libro qui vicino a Castel Sant'Elbo. Seconda edizione, straordinaria, un momento di cultura. Fine settimana la città in molti suoi luoghi, anche di periferia, disseminata di pianoforti, con pianositi, inaugurazione a Piazza del Plebiscito alle 21. Quindi io sono fiducioso che avremo una volata fino poi all'inizio dell'estate con il boom, il botto finale come inizio estate, intendo dire, con le universiari. Quindi io sono molto fiducioso. Lavoriamo tutti bene per migliorare i servizi, essere accoglienti. Chiedo veramente a tutti di dare una mano perché il flusso di persone è talmente tanto che per poter tenere la città efficiente, pulita. Ci vuole veramente il contributo di tutti, non si può chiedere solamente. Ma io sono convinto che il senso di maturità dei napoletani aumenta sempre di più e quindi faremo buona prova di noi. Sindaco, io vorrei ritornare su un argomento che abbiamo trattato la settimana scorsa, la no plastica su lungomare Caracciolo, che è un'iniziativa, una delibera firmata, un'ordinanza che partirà dal primo maggio, che io ritengo molto importante, anche perché proprio di questa settimana, una notizia che spiace a chiama l'ambiente, il ritrovamento di quel capodoglio in Sardegna, nella splendida baia di Costa Smeralda, in Sardegna, spiaggiato 22 kg di plastica con un feto di due metri e mezzo. Ciò significa veramente che è una crudeltà inquinare il nostro mare. Sono proprio d'accordo ed è per questo che Napoli, città sensibile, amministrazione in prima linea, popolo attento, siamo anche qui all'avanguardia nella difesa dell'ambiente. Ci ha fatto i complimenti anche il Ministro dell'Ambiente Costa, prima città italiana che emette un'ordinanza dal primo maggio al 30 settembre in via sperimentale, in modo da consentire anche a tutti di abituarsi. Entriamo un po' nello specifico, cosa significa per farlo capire anche a chi ci ascolta da casa. In modo da abituarsi tutti in via sperimentale sul lungomare di tutti, il lungomare di Napoli, dal primo di maggio al 30 settembre sarà vietato l'utilizzo della plastica, quindi sia la vendita e il consumo, salvo che non siano monouso e biodegradabile. In questo modo ci si abitua tutti, adesso faremo l'incontro alle categorie di commercianti per il problema delle scorte, quindi noi capiamo che all'inizio bisogna abituarsi, perciò una fase sperimentale, poi ascoltando tutti, il contributo di tutti, dal primo ottobre le nostre intenzioni e piano piano allargarla in tutta la città. Capisco che ci saranno problemi, ma non possiamo più far fin di niente. Quelle immagini sono dura realtà, sono tantissime, la plastica non è solo il problema di chi la produce chiaramente, ma è soprattutto di chi non la sa riciclare e da chi la butta in mare. L'inciviltà di gente che getta ancora la plastica per terra, la getta sulla spiaggia e la getta in mare. Quindi c'è bisogno che si innalzi il livello di pedagogia civica, di educazione alla legalità, di rispetto all'ambiente, perché quale vale la vita, ma non delle generazioni che verranno, anche delle nostre generazioni, perché se non interveniamo subito il pianeta rischia di collassare e se collassa il pianeta collassa la vita umana e quindi alla fine poi dell'esistenza. Quindi su questo ci vuole un'attenzione enorme, io credo che la gente può cominciare anche a rinunciare a qualcosa della vita per salvaguardare la vita di tutti e di tutti. C'è bisogno anche di passare appunto a ciò che è biodegradabile, anche il monouso biodegradabile. Magari qui ci vorrebbe anche l'intervento del governo che in qualche modo con degli investimenti può consentire questa trasformazione. Assolutamente, devo dire che su questo confido nel Ministro Costa, nel Ministro dell'Ambiente, molto attento su questo, stiamo in contatto, adesso c'è una bella iniziativa sui delfini a Capri lunedì prossimo che staremo insieme. Io confido che su questo tema il Paese si possa unire, si possa lottare insieme. Ho apprezzato il ringraziamento che il Ministro ha fatto a me, alla città di Napoli. Noi saremo in prima linea, la delibera CO2, la delibera OBC contro le emissioni di CO2, ossigeno bene comune per ridurre le emissioni di CO2, 10 mila alberi entro il 2020, più pedonalizzazioni, più ZATL, più biciclette, via i depositi petroliferi da Napoli Est, via le emissioni di fumi delle navi con l'elettrificazione e tantissime altre misure, l'acqua pubblica. Napoli ormai ci riconoscono anche nei parametri internazionali che abbiamo avuto, siamo tra le città del mondo che più ha adottato negli ultimi tempi misure in difesa dell'ambiente contro le emissioni di CO2, anche l'illuminazione a LED ha abbattuto già di 10 mila tonnellate le emissioni di CO2. Con il contributo dei cittadini e soprattutto dei più giovani che sono attentissimi, poi stanno formando adesso le loro coscienze e il loro impegno, io credo che potremmo dare un segnale forte da Napoli. È importante salvaguardare il nostro ambiente, noi l'abbiamo fatto per troppi e troppi anni. Sindaco, grazie per essere stato qui anche oggi e di aver chiarito anche tutta questa infinita telenovela del matrimonio, che si è diventato il matrimonio del secolo, di Toni Colombo con la sua sposa. Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito, vi ricordo sempre inizio il mail cui potete scrivere in redazione chiocciolatelevomero.it. Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti.